Le persone non lasciano il proprio lavoro. Ecco invece le tre cose che fanno dimettere le persone. La prima, capi stronzi. Un capo che non sa come gestire le persone, non sa come motivarli e come comportarsi con loro può essere determinante nella decisione di un dipendente di andarsene. Un buon capo, infatti, deve imparare a gestire la relazione in un modo diverso. Deve puntare sul rapporto sano e gratificante, ovviamente con un team, sugli obiettivi e sulla produttività. Secondo motivo, cultura aziendale tossica. Una cultura del lavoro si definisce tossica quando? Quando in un ambiente lavorativo vengono ignorati, accettati o addirittura incentivati comportamenti, pensieri e pratiche organizzative che hanno un impatto negativo sulla sicurezza economica, fisica e psicologica delle persone all'interno dello stesso gruppo di lavoro. Le persone alla ricerca di un lavoro non puntano al lavoro ideale. La loro speranza è quella semplicemente di trovare l'azienda ideale. Terzo motivo, mancanza di riconoscimento. Vedete, il riconoscimento ha un impatto tangibile su diversi aspetti, tra cui lo stato d'animo dei lavoratori, la loro performance e la loro voglia di fare sempre meglio ed ottenere benefit e vantaggi dopo aver raggiunto un determinato obiettivo. Quindi, se sei un datore di lavoro, se sei un imprenditore che guarda questo video e non vuoi perdere i tuoi collaboratori, fai attenzione a questi aspetti. Grazie. Grazie.